Ehi, signorita, una parola, signorita. Sì? Per il capitano Dominguez siete veloce. Il capitano dice anche che vi arrampicano. E il capitano ferma anche. Va bene, va bene, basta col capitano Dominguez. Cosa volete? Carreggiare e battervi in velocità. E cosa vinco, se per te? Se perdo, mi imbarcherò volentieri insieme a voi. Siamo d'accordo. Sì? 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 Oh, oh, oh. Un dolore, sofferenza, è solo colpa vostra. Andiamo, amico, datevi un tono. Che cos'è successo? La nave? Sparita. I soldi? Perduti. La moglie? Non l'ho neanche mai avuta, una moglie. E quel tizio mi ha detto, Oh, capitano, sono povero e io sono generoso, di presto denaro. Compra una nave, diventa ricco. Poi vado da lui, gli dico, Oh, capitano, sono povero. E non mi vuole nemmeno rendere i soldi. Basta piangere, calmatevi ora. Ci penserò io. Oh, oh, grazie. Ma solo se rinunciate al vino e ritornate in voo. Oh, grazie. Oh, grazie. Oh, grazie. Oh, grazie. la nave è acquistata con la generosità del capitano dominguez non vi servirà più ecco Ho recuperato la sua nave, potete usarla Oh, grazie, grazie Ora vi proteggerò io Ripagherete la mia gentilezza, lavorando per me Se non ho altra scelta, accetto Insomma, sarebbe davvero un onore, mio dolce e caro angelo